Un evento in collaborazione con Ford Bombay. Cettroni! A prova di tutto. Calcio spettacolo di Coppa dei Campioni questa sera alle 23 su Italia 1 con la sfida tra i campioni belgi del Bruges e gli scozzesi del Glasgow Rangers. Per il gruppo A di semifinale di Coppa dei Campioni, Bruges, Glasgow Rangers, questa sera alle 23 su Italia 1.